Buongiorno ragazzi, questa lezione, divisa in più video, riguarda il movimento moderno. Il termine movimento moderno indica quella profonda rivoluzione in architettura, nelle forme, nel metodo, nei materiali, che avviene in architettura nel primo dopoguerra, negli anni venti in particolare. In questi anni l'architettura, la progettazione architettonica, assume delle nuove implicazioni e dei nuovi obiettivi di tipo sociale, oltre alle solite valenze estetiche, e quindi assume un nuovo importante valore etico, nel senso che si mette in prima linea per cercare di risolvere alcuni problemi della società. Inoltre si assiste ovviamente ad un grandissima rivoluzione dei linguaggi, anche influenzata dalle avanguardie, per cui troviamo questo linguaggio lineare, pulito e in materiali dell'industria. Ovviamente, come tutti i fenomeni culturali e artistici, non nasce da un momento all'altro, ma ci sono dei precedenti, dei precursori del movimento moderno. Tra questi, sicuramente, Auguste Perret, che nel 1903 realizza la prima abitazione, quindi non edificio industriale, ma abitazione, realizzata con una struttura interamente in cemento armato. L'utilizzo di una struttura a pilastri in cemento armato permette a Perret di aprire un gran numero di finestre in questa palazzina, che è in un lotto molto stretto, per cui necessitava di una grande illuminazione. L'uso del cemento armato lo troviamo anche in alcune opere industriali di Perret, in cui è esaltata proprio il ruolo strutturale del cemento in queste bellissime arcate di un atelier, quindi strata di un edificio, diciamo, industriale, non residenziale. Punto di riferimento per l'affermazione del movimento moderno è sicuramente stato Adolf Loss. Adolf Loss si forma nell'ambito della secessione viennese, quindi nel Liberty, nella cultura architettonica che esaltava la decorazione, l'ornamento, delle forme ispirate al mondo vegetale, che quindi mettessero in secondo piano anche la forma dell'ambiente architettonico. Ma si distacca ben presto da tutto ciò, elaborando un linguaggio assolutamente essenziale, pulito, lineare, privo di qualsiasi decorazione. Come lui stesso scrive, l'evoluzione della civiltà è sinonimo dell'eliminazione dell'ornamento dall'oggetto d'uso. Questa frase viene dal famoso saggio Ornamento e delitto, per cui considera l'ornamento, la decorazione, un vero e proprio delitto. In questo modo Loss sottolinea la priorità nella progettazione architettonica delle esigenze sociali, della spazialità e della natura dei materiali impiegati, quindi eliminando di conseguenza gli ornamenti. Se voi vedete questo edificio fatto nel 1910, quindi prima della prima guerra, in pieno Liberty, una piazza centrale di Vienna propone un'architettura assolutamente priva di ornamenti, pulita, lineare, in cui le funzioni sono anche rese evidenti nello stacco tra il primo livello in materiale in marmo e il secondo livello in intonaco. La prima parte era destinata a una parte commerciale, la seconda parte agli appartamenti. Come lui stesso scrive, ciò che a me premeva era di separare nettamente nell'edificio la parte commerciale e gli appartamenti. Quindi un'architettura molto più lineare e che metteva in evidenza le diverse funzioni e in questo senso anticipa il movimento moderno. E anticipa il movimento moderno anche nel trattamento dello spazio, perché nelle sue ville fonda il suo lavoro, il cosiddetto round flan, il piano dei volumi, cioè gli ambienti vengono proporzionati secondo non solo la mola pianta ma anche l'altezza, per cui gli ambienti più importanti hanno altezze maggiori, ambienti con funzioni più private, anche la camera rispetto al salotto, ha altezze minori. E questa differenza di altezze si riflette anche nei prospetti, che non sono più il prospetto simmetrico rispetto a un'asse centrale dell'architettura tradizionale storicista, ma anche i liberty, ma sono dei prospetti assolutamente liberi con altezze diverse. Precursore ed esponente egli stesso del movimento moderno è Peter Behrens. Peter Behrens che lavora all'interno del Werkbund. Il Werkbund è letteralmente la Confederazione tedesca di arti e mestieri, che viene fondato a Monaco nel 1907 su iniziativa dell'architetto Mutiesius, con l'obiettivo di cercare di valorizzare l'impatto dell'industrializzazione, cercando effettivamente un compromesso fra qualità e quantità. Questa collaborazione fra arte, artigianato e industria, era finalizzata a creare dei prodotti, degli utensili, dei prodotti di uso quotidiano, accessibili anche alle classi meno ambienti. Era stato l'obiettivo anche della Hearts and Craft Exhibition Society di Morris, ma non era stato poi raggiunto dall'esperienza inglese. Cosa cambia? Cambia che in questi anni il disegno si fa più semplificato, e quindi effettivamente producibile in serie. E cambia anche l'atteggiamento, perché Peter Behrens avvia una proficua collaborazione con una delle più importanti industrie tedesche, che è la AEG. E per la AEG, Behrens disegna, per esempio, il famoso bollitore del 1909. Una forma che rimanda all'etteglie tradizionale, ma perfettamente funzionale, con l'attacco elettrico posto su un lato. Quindi un'attenzione anche alla funzionalità, e anche alla fruizione dell'oggetto, che non si era mai visto fino ad allora. Perché gli oggetti Liberty erano molto ricercati, molto raffinati, per questo inevitabilmente molto costosi. La collaborazione di Peter Behrens con la AEG si riflette anche in tanti edifici industriali che Peter Behrens progetta per la AEG, come la famosa fabbrica di turbine a Berlino. Siamo nel 1908-1909. L'edificio è costituito da un grandissimo capannone a pianta rettangolare di 200 metri per 39 metri, così grande sia per le esigenze di produzione, per le macchine di produzione, per le turbine che erano molto grandi di per sé, quindi immaginatevi le macchine, sia per garantire anche l'accesso dei binari della ferrovia che entravano all'interno per poter prelevare i manufatti. La struttura è costituita da dei portali in acciaio, in struttura d'acciaio reticolare, che permettono di indicare questo grande vuoto utilizzabile per la produzione. La struttura portante in acciaio svincola completamente le paliti da qualsiasi funzione strutturale e tra un pilastro d'acciaio e l'altro si inseriscono delle grandissime vetrate che permettono l'ingresso adeguato di luce per uno spazio così profondo, così grande. Luce e areazione garantita sia dalle finestre laterali, dai finestroni laterali, sia da quella frontale, sia dal lucernario posto in sommità, per cui all'interno l'ambiente era adeguatamente areato e quindi salubre e adatto alle condizioni di lavoro degli operai. Inoltre, questo uso massiccio del vetro permetteva di creare una nuova immagine della fabbrica, un'infabbrica trasparente, per cui dall'esterno vedevo cosa succedeva all'interno, secondo una nuova richiesta di trasparenza nella concezione etica del lavoro. E questa concezione etica del lavoro è sottolineata da Behrens anche dalle scelte prettamente architettoniche, non meramente funzionali e strutturali, come il fronte principale, quello dove è scritto Turbine Fabric, in cui assume una forma lineare, priva di qualsiasi decorazione, ma che ricorda quelle degli antichi templi dell'antichità o ricorda un tre lite, per cui a sottolineare il ruolo importantissimo dell'industria e del lavoro nella società. Realizza quindi in questo edificio quella corrispondenza fra forma e funzione che porrà le basi per gli sviluppi del movimento moderno, riaffermando al contempo il ruolo centrale dell'architetto. Peter Behrens sarà egli stesso un esponente del movimento moderno e nel suo studio si formeranno alcune fra i nomi più importanti del movimento, Le Corbusier, Gropius e Miss van der Rohe. Il movimento moderno che nasce nel primo dopoguerra nasce in realtà per rispondere ad un problema ben specifico e va oltre la progettazione industriale, ma nasce intorno alla questione dell'abitazione. Dopo la prima guerra mondiale si fa centrale il problema dell'abitazione, della casa economica. Si era già posto nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, con la urbanizzazione provocata dalla seconda rivoluzione industriale, ma diventa ancora più importante, diciamo, accentuato dalla crisi economica, in particolare in Germania. Prima del movimento moderno, nessuno si era mai interessato dell'abitazione povera in modo sistematico, quindi non era stato studiato in modo sistematico l'abitazione del ceto operaio. E quindi l'architetto, in questo obiettivo, si vede investito di un nuovo ruolo etico e sociale. Ma come posso fare a realizzare un'abitazione economica, ma al contempo sana, funzionale? Devo cercare il minimo ambiente, minimo spazio, ma dotato di nuovi servizi. Utilizzare materiali industriali, quindi venire a patti, in accordo con l'industria, quindi usare il cemento armato, l'acciaio, fare attenzione agli impianti, eccetera, e utilizzare forme lineari, semplici, essenziali, che siano ripetibili in serie. In quest'ottica di ottimizzazione dello spazio, viene studiato dagli architetti del movimento moderno l'existence minimum, ossia il minimo spazio indispensabile all'abitazione, alla vita. Nei CIAM, nei congressi internazionali di architettura moderna, si riuniscono per cercare, codificare nuovi canoni e formulare nuove ipotesi. Queste sono tante ipotesi di existence minimum. Vedete che sono appartamenti molto piccoli, 46 metri quadri, 40 metri quadri, ma con tutte le funzioni indispensabili e divise, per cui la zona giorno è divisa dalla zona notte. Quindi, individuazione dei tre gruppi funzionali fondamentali, zona giorno, zona notte, i servizi, i bagni, e i disimpegni. I disimpegni che sono però ridotti al minimo, quasi assenti in queste soluzioni estreme, e che sono spesso, sostituiscono il corridoio ottocentesco, che invece occupava molto spazio, non essendo quindi funzionale, razionale. Come faccio per arrivare a queste soluzioni? Studio la distribuzione, studio i percorsi, come fruisco l'appartamento per cercare di ridurre, appunto, al minimo, gli spazi superflui. Definito l'alloggio, passo allo step successivo. Definisco l'edificio. Come aggrego gli diversi alloggi? Studio per la prima volta, in modo sistematico, le tipologie abitative. La tipologia schiera, già diffusa nell'Ottocento, quella sul cui accesso avviene dall'esterno, su un piano solo, o su due piani, ma diciamo che da ogni accesso si accede ad una sola abitazione, e hanno un muro in comune per economizzare i costi, e sono ripetibili ovviamente in serie. Oppure la tipologia in linea, che affianca la tipologia schiera, ma inserisce dei gruppi scala tra due o tre alloggi, permettendo quindi di rendere questa tipologia replicabile sia in estensione, sia in altezza. Oppure quella a ballatoio e corridoio, in cui la distribuzione avviene lungo un corridoio, un elemento lineare che dà accesso ai diversi alloggi, oppure l'elemento a torre, che invece ha uno sviluppo in altezza più che in estensione, in cui si accede agli alloggi attraverso un corpo distributivo centrale, corpo scala o corpo ascensori, posto in posizione appunto centrale rispetto all'edificio. Questi sono i primi studi tipologici, razionali, scientifici, architettonici, della tipologia edilizia soprattutto. E a partire da questi studi si sviluppa un modo razionale e sensato di costruire. Tenete conto che nell'Ottocento l'abitazione popolare era spesso costituita da un'unica stanza in cui si mangiava e si dormiva, senza nemmeno la sua divisione fra zona giorno e zona notte.